Ciao a tutti ragazzi qui è Fortemar che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite L'avete letto dal titolo ragazzuoli? Oggi la sfida è se trovo un OG skin il video finisce In particolare faccio riferimento a tutte quelle skin che sono state aggiunte di recente nello shop Che sono le primissime skin default del capitolo 1 di Fortnite che è nostalgia Ovviamente ragazzuoli prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di attivare le notifiche E di droppare un like per i video Non lo chiedo mai ragazzuoli ma mi raccomando fatelo Così mi fate capire che questi video vi piacciono Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Io la sfida che sto facendo ora è se trovo una OG default skin il video finisce Pensavo che stesse arrivando un tizio sulla cesta Sta arrivando un tizio sulla cesta Sta arrivando un tizio sulla cesta No Che arma ho preso no ti prego Ti prego un'arma decente Ti prego fammi prendere un'arma decente Un'arma decente Ok Oh mio dio Mi stai prendendo in giro Mi sta prendendo in giro il gioco Comunque ragazzuoli vi ricordo che io qualunque video registro fondamentalmente Lo registro quando sono in live streaming sul sito Viola Quindi non posso imbrogliare dato che ci sono i fan che mi controllano Se anche voi volete aggiungervi alle live Guardare i video in anteprima e anche giocare con me Su Fortnite Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirci sul sito Viola Perché stasera saremo in live Vi aspetto Attenzione Ah bello Questo è stato Bello Questo è stato divertente Attenzione ragazzuoli Oh oh ma macchina Che panico Un tizio di fronte Un tizio a destra Un botto Un botto Devo farmi io la kill Mamma mia Un po' smirata Però con l'agog Non sparo da un bel po' di tempo Che non è un'arma che sono solito usare in realtà C'è un tizio che si è chiuso nella casa dall'altro lato Ah Devo sempre coprirmi da tutti i lati E puntualmente faccio finta di dimenticarmelo Il tizio alle spalle è un tizio di fronte Che faccio raga Idee geniali? Sì vabbè Idee geniali Ci pensa lui Ok Posto via Ne vado Anche se stanno fightando Potrei provare ad aggiungermi Mamma mia ragazzi Che ansia fa sta cosa E dai Che non mi è uscito niente di decente Allora Seguiamo il fiume Fino alla safe Poi l'aspettiamo la gente Che stava fightando Perché ci sta Per forza 42 Solo un colpo Va bene Non ha per niente senso questa cosa Intanto me ne faccio un'altra Vedo se rispondo No raga Cioè Non sto scherzando Deve fare l'uno versus uno Io lo martello Se non rispondo Mi deve bloccare su playstation store Se non vuole che lo martelli Ok dai raga Vedere come Come ce la capiamo Dai Oh frate basta Cioè devo far cadere Ma quanti materiali ha? Ho trovato un lama Come ha fatto Trovarsi là Come ha fatto Come ha fatto A teletrasportarsi Così lontano Tu stai fermo Che tu sei la mia kill Fino a prova contraria Andiamo Poi c'è un altro qua Che è un bot Posto Siamo a due kill Prossimo dai Vediamoci il fucile a pompa Di questo Sono due bot Se non sbaglio però Sì sì Sono due bot Assolutamente Questo che sto Sta facendo Vabbè Oh questo non è un bot Questo non è un bot Morto Letteralmente morto Perla per quest'aura Materiali 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 Dammi dei materiali Questo scappa Questo scappa Impazzito Impazzito Sta scappando Mi metto il cespuglio Lui non se lo aspetta Non mi ha visto Ok Devo vedere se Callito Mi ha risposto Datemi un attimo di tregua Ci sono delle priorità Nella vita E Callito è una di quelle Callito A breve verrei eliminato Da Portugamerito Sì sì ragazzi Ma ma a Callito Gli mandiamo altri messaggi Gli mandiamo altri messaggi Le vediamo a parte Il tempo che faccio sto game Oh oh Tizio davanti Tizio davanti Mi vede Non mi vede Non mi vede Non mi vede Spara Spara Ok Sono due Sono due Sono due Sono due Uno è Noshield Non so perché mi abbia pushato Da Noshield Però sono due Ok Manca l'altro Mia Non volevo prendere subito la rift Ma va bene Tanto vale Ma io questo non l'avevo proprio visto Io questo non me l'aspettavo proprio Ma che è? Ma perché stanno giocando tutti come se fosse arena? Tutti i boxati Ma che è? Poi abbiamo teoricamente giusto un altro Che credo sia da ste parti Per logica Infatti sta là E' un bot E mi sono rubato pure la kill God Non mi pushare Non mi pushare Non mi pushare Che non ho la vita per farlo Lasciami stare Lasciami stare Lasciami stare Non salire Non salire Non salire Ok non è forte ragazzi L'abbiamo visto prima Questo è scarso Dai Dai 10 kill easy 10 kill easy Tanto non abbiamo manco incontrato oggi player Questa è la vittoria buona Dai fatti sgamare qua sotto Lo so che ci stai Piacere Godo GG Bella ragazzoli Uh prossima Credo che ci sia solo un tizio Quindi non dovremo avere I problemi Tra l'altro questi due tizzi Stanno sul telefono Oh frate che stai guarda I video di ForteGamer Sì video di ForteGamer Fai bene Un po' confuso GG Ah sono anche in modalità costruzione Eh vabbè ragazzi Stavolta 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 Abbiamo messo pure arena In modo da Cercare un attimo Un po' di gente Più normale Perché veramente Fino ad ora ho fatto dei game Che avevano dello scandalo Ok Attenzione che abbiamo già un tizio in realtà Che ci sta sotto Esatto E spariamolo Dai modifica Eh mi sa che è tutto andato male Fratelli Dai dai Non ti preoccupare Non ti preoccupare 120 Vai Ok Credo ci sia qualcun altro sotto A questo punto però Uscito Questa è una skin vecchia Quindi non ci interessa Cioè una skin del nuovo capitolo Quindi ok A posto Perfetto Ne stiamo cercando skin ancora più vecchie Del primo capitolo di Fortnite Stiamoci un po' di mattone Che non fa mai male Modifica Ah godo tanto frate GG Ok Questo e questo Sono miei GG Perfetto Scusatemi un attimo l'apnea Per eliminare questo tipo Velocemente Zona di Tony Stark Prendiamoci la roba che ci interessa E andiamo Non so dove andiamo a The Ruins Per cercare qualcuno Oh No 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 Invece ho visto bene Ho visto bene Ho visto bene Ragazzi Ok Avevo detto che avevo visto qualcuno Oh Eh un oggi skin No E andiamo a The Ruins